Ciao a tutti, oggi faremo degli ottimi muffin ai mirtilli e le banane. Ecco a voi gli ingredienti che ci serviranno per preparare questi muffin di mirtilli e banane. Sotto in descrizione troverete la grammatura esatta. Abbiamo della farina, della crusca di frumento, una banana, dei mirtilli, uova, lievito chimico, dell'olio di semi di girasole, un limone del quale useremo solo la scorza, dello zucchero, del latte e un pizzichino di sale. Unire in una ciotola la scorza di limone, la farina, la crusca di frumento, lo zucchero, un pizzico di sale e il lievito e miscelare con un cucchiaio di legno. In un'altra ciotola mescolare l'uovo, il latte e l'olio ed unire le polveri. Mescoliamo con una frusta per evitare i rumi. Infine, schiacciamo la banana con una forchetta e la uniamo al composto. L'ultima cosa che dobbiamo aggiungere al nostro impasto sono i nostri mirtilli. Stampo per muffin, andiamo ad allaggiare all'interno dei nostri pirottini di carta. Andiamo a infornare per 30 minuti a 180 gradi forno ventilato. Ed ecco i nostri muffin per uscire il forno. Facciamoli raffreddare un pochino e dopodiché una spolveratina di zucchero a velo e sono pronti per la nostra merenda o colazione.